salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo ad allenare le braccia ovviamente secondo giorno della settimana faremo come primo esercizio un cal faremo tre serie per 5 ripetizioni con 40 kg cosa andremo a fare prima ovviamente lo sapete già ci andremo a pesare ci vediamo con l'esercizio stesso peso 59.20 kg grasso corporeo sempre 13,4 quindi abbiamo perso mezzo chilo grasso corporeo 0% ero in realtà ero 13,1 però 13,4 siamo lì ora ragazzi presa martello come secondo esercizio con maludio faremo tre serie per otto ripetizioni proveremo a fare i 20 kg terzo esercizio abbiamo carlo cavo alto con 10 kg 3 serie per 10 ripetizioni ovviamente singolo perché ha un solo cavo ovvero potete avere un'altra machine se ne avevo due faccio il doppio avendone uno faremo singolo però singolo secondo me anche meglio ti allena di più il bicipite perché ti concentri su un solo braccio per volta quindi senti più il peso comunque faremo tre serie per 10 ripetizioni ci vediamo all'esercizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti abbiamo presa in persa bilanciere 3 serie per 10 ripetizioni 26 kg e i bicipiti crescono bicipiti terminati adesso ovviamente andremo a fare i tricipiti al primo esercizio abbiamo una French press con bilanciere arti andremo a fare 3 serie per 5 ripetizioni con i nostri 34 kg poi ovviamente ci saranno altri esercizi e le ripetizioni si manterranno sempre tra le 10 e le altre ripetizioni questo esercizio faremo sempre 5 ripetizioni perché lo voglio fare pesante voglio arrivare a 40 kg a 40 kg di French press ma attualmente li ho di caldo quindi è impossibile arrivarci ora però con il tempo ci arriveremo sei conto esercizio? caro non è possibile io sbaglio sempre gli esercizio non fateci caso vabbè push down corda 3 serie 24 kg erano 24 kg per 10 ripetizioni poi 8 ripetizioni e poi l'inverso si era così ho cambiato idea rispetto al push down in presa inversa faremo tirate al capo basso 8 kg 3 serie per 10 ripetizioni a presto 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 ovviamente comincieremo senza peso perché non faccio le dips da non so quanti anni quindi mi devo riavventurare a questo esercizio poi con il passare del tempo aumenteremo peso poi si beve per ora senza peso faremo tre serie per dieci ripetizioni otto dieci quello che riusciamo a fare non lo so vediamo cosa riusciamo a fare a allenamento terminato adesso c'è fisico c'è fisico che ci vediamo il prossimo episodio ovvero quella di giovedì che sarà sul dosso ciao 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 ciao